Ha fatto tappa al circolo velico di Stabia il tour di Capitani per sempre, serata speciale interamente dedicata alla passione per il calcio, raccontata nel libro scritto dal giornalista della RAI Gianfranco Coppola, parter nel quale c'era Luigi Vicinazza, sindaco di Castellammare, e Vincenzo Ungro, vicepresidente del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia, allenatore per diletto. Capitani per sempre, la testimonianza che Gianfranco Coppola è attento a questo settore, ma un settore che mette insieme arte, cultura, sport, socialità, e che fa sì che possiamo portare la nostra città sempre più in alto dal punto di vista della cultura. I saluti affidati a Vincenzo Esposito, presidente del circolo velico Stabia, Alfonso Giarletta, event manager dell'Associazione Meridiani. Di prestigio per il calcio stabbiese di oggi la presenza del presidente della Rive Stabia Andrea Langella, interventi apprezzati dell'ex allenatore del Napoli Gigi De Canio o di un giornalista di lungo corso come Gaetano Imparato. Nel corso della serata è stato assegnato il premio speciale Capitani per sempre a Roberto Amodio, grande calciatore e bandiera della Juve Stabia, ma ascoltiamo l'autore. Bulgarelli era per i bolognesi tutto ciò che il bolognese desiderava e lo comunicava a lui. Rivera, Mazzola, Cera, Mascetti nel Verona, Minotti nel Parma, non ne parliamo di Maradona, Bruscolotti, Antonio Giuliano che mi ha ispirato, questo libero Agostino di Bartolomei, un capitano al quadrato, Roma e Salernitana, sentimento, serietà, attaccamento, professionalità, sacrificio e rigore, gente speciale. Capitani per sempre, come il precedente libro Campioni per sempre, edito dalle varie, sostiene con i suoi proventi i progetti solidali della fondazione In nome della vita Onlus e di casa di Tonia, voluti dall'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.